In questi giorni sono usciti i primi due volumi della nuova collana della nave di Teseo, ancora una volta la genialità di Elisabetta Sgarbi, libri che riguardano Fabrizio De Andrè. Sono i libri di Fabrizio De Andrè, sono le nuove edizioni ampliate in realtà di Volammo Davvero e di Accordi Eretici, con la prefazione di Dori Ghezzi e Sandro Veronesi e noi di questa iniziativa parliamo con la nostra Dori. Buonasera Dori. Grazie, ero molto preoccupata a venire senza pubblico, ma vedo che è tanta roba lo stesso. E ne parliamo con Sandro Veronesi che è collegato con noi e che saluto. Buonasera Sandro. Buonasera, ciao Dori. Grazie Sandro. E grazie. Allora diciamo intanto nuova collana come ha detto la nave di Teseo che praticamente si impegna a ripubblicare Dori, parte della bibliografia della fondazione Fabrizio De Andrè, con anche elementi nuovi. Si inseriranno poi nel tempo sì, però ho il coraggio di partire con due volumi che sono dei saggi in ogni caso, ma per quanto riguarda Accordi Eretici nasce nel 97, cioè viene pubblicato nel 97, Fabrizio Cera ha avuto la possibilità di leggerselo, di anzi sottolineare delle cose, appuntare insomma quello che solitamente faceva lui sui libri. E quindi era, diciamo insomma, cosciente di quello che stava accadendo e un po' anche imbarazzato di essere tenuto oggetto di studio. Ed è anche un po' più accademico questo direi come volume. Poi, nata la fondazione, abbiamo deciso nei primi cinque anni di pubblicare questo volume, che è Volarmo davvero, dove anche Sandro ti ringrazia di nuovo, ha voluto fare una bellissima prefazione. Allora io chiedo pazienza un secondo a Sandro e vorrei per entrare nell'argomento dedicare queste immagini a tutti noi per rivedere e riascoltare Fabrizio De Andrè. Prego. Io non ho nessuna verità assoluta in cui credere, non ho nessuna certezza in tasca e quindi non la posso neanche regalare a nessuno. Va già molto bene se riesco a regalarvi qualche emozione. Per quanto riguarda il mio mestiere, la complicità del mare è duplice, è una complicità poetica e una giornalistica. All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore e aveva un sol con lungo il viso, con una specie di sorriso. Qual è la canzone che più ti somiglia? Sicuramente Bocca di Rosa. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva la mura, metteva la mura. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva la mura e sopra ogni cosa. Ma che bello capire, pure in carcere rosa. Queste nuvole sono da intendersi come quei personaggi ingombranti e il cui ruolo fondamentale sembra quello di mettersi fra noi e il cielo per nasconderci la luce del sole. Un giorno qualunque lì... Io credo che l'uomo potrà anche conquistare le stelle, ma penso d'altra parte che le sue problematiche fondamentali sono destinate a rimanere le stesse per molto tempo, se non addirittura persenti. Amore che fuggì, da me tornerai. A Fabrizio. Sandro, noi abbiamo alternato prosa e canzone proprio perché a te vogliamo chiedere della parola in Fabrizio D'Andrè. Tu che nella tua prefazione teorizzi il Fabrizio D'Andrè qualunque cosa, perché è così. Fabrizio D'Andrè, come è proprio della poesia, ha un carattere universale ed è la definizione della poesia per eccellenza, ed è applicabile, e tu lo hai applicato addirittura nella tua vita quando facevi radio, a qualunque cosa. Cioè le frasi, i versi di Fabrizio D'Andrè sono universalmente e al di là del tempo applicabili al commento dei fatti di ogni giorno. Sì, in effetti facciamo così. Siccome sapevamo a memoria, praticamente non tutte, ma molte canzoni di D'Andrè, i testi, provammo a, erano quegli anni lì, dell'inizio delle radio libere, per cui erano stanze così, con i rumori dietro, eravano ragazzi, provammo a fare un commento delle notizie del giorno, usando i versi delle canzoni di D'Andrè. E è finita prima la radio libera, quella fa lì, è finita prima quella, dei versi delle canzoni di D'Andrè che tutti i giorni avevano qualcosa per commentare e illuminare il fatto del giorno. All'epoca poi le notizie non erano così ammassate, ammocchiate come adesso, perché non c'era internet. Quindi, insomma, c'era proprio verso ragionarci sopra. E io lì mi resi conto di una cosa che tuttora credo, e cioè che veramente se sei a memoria le canzoni, i testi, le canzoni di D'Andrè, hai qualcosa da dire sempre, in qualunque circostanza. Ecco, ma Tori, ma questo qualunque cosa, che secondo me è davvero, insomma, è un pensiero che Sandro è riuscito a descrivere, ma che noi, come dire, istintivamente abbiamo sempre sentito. era una costruzione che Fabrizio, come dire, perseguiva, cioè l'attenzione che aveva per le parole. Era inevitabile che portasse a questo? Non so quanto ne fosse consapevole, però lui diceva quello che in quel momento era opportuno per quel progetto che aveva, per quello che aveva in mente, per il senso anche globale del disco, dell'opera che stava facendo. però divagava anche molto, cioè era uno che aveva molte curiosità e quindi riusciva, in qualche modo, ad assimilare cose impossibili, a mettere insieme delle cose che magari avresti mai pensato che potessero convivere. Ecco, ad esempio, Sandro racconta che l'ha aiutato a essere preparato delle cose anche abbastanza di solite, come trovarsi in Francia a mangiare, senza sapere, l'ha convinto di mangiare la lepre e poi scoprì che stava mangiando un gatto e quindi poi diceva, l'aveva detto Fabrizio. Insomma, in Creuse de Ma, nella canzone Creuse de Ma, appunto si dice che questi turisti vanno nell'osteria di Dria e gli viene servita nel menù questa lepre di coppi, i coppi sono le tegole, la lepre dei coppi, e il gatto, vedi, quindi è un cinismo molto ligure, diciamo, nei confronti di... Ecco, e lui ci preparava anche a queste eventualità. Tu l'hai mangiata, l'hai mangiata poi la lepre di coppi o no, Sandro? Si chiamava Coniglio alla Marsigliese, era un locale di un irredentista corso, anarchico, a Parigi, e io mangiavo sto coniglio, era buono, poi un amico corso mi disse, ma lo sai che lo chiama coniglio, però è gatto, e io disse, vabbè, lo so, è da sei mesi che lo so, perché è appena uscito il disco di De Andrè, dove c'era appunto, e quindi feci finta di essere un uomo di mondo, e di fatto lo ero grazie a Fabrizio, altrimenti sarei svenuto. Tra l'altro, oltre al cinismo, al disincanto, anzi per dirla meglio, che è proprio, insomma, della Liguria, c'è anche l'umorismo, nel senso che noi abbiamo poi di Fabrizio, giustamente, per timore, per affetto, per amore, abbiamo una idea, forse a volte monumentale, in realtà c'è un Fabrizio invece quotidiano molto allegro e molto divertente. Sì, 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 assolutamente, infatti, sempre coinvolgendo Sandro, mi ricordo che ci siamo fatti delle grosse risate a Firenze, per quale motivo? Per un motivo che poteva essere anche, voglio dire, disastroso, invece per fortuna non è poi capitato niente, dovete sapere, che Sandro ha rischiato la vita per Fabrizio, lo vuoi raccontare Sandro? Ha rischiato la vita? Scusa se poi mi metto anche a ridere, perché in genere quando mi ricordo quel fatto, purtroppo, insomma, è così, quando cade una persona. Chi è caduto? Già ride adesso. Cos'è successo Sandro? No, io ero andato insieme, ero andato insieme ai miei amici a vedere il concerto, eravamo nel teatro Tenda, abbastanza in alto su queste tribunette che sono costruite, diciamo, con questi pali tubolari, e a un certo punto, prima che cominciasse il concerto, ha ceduto proprio dove eravamo sti tutti noi. Ma perché ride? Però non ha ceduto di schianto. Piano piano. Perché no, non è stata una regola, perché quello più colpito sono stato io. Una sezione piccolissima. Perché due dei cosi, degli assi dove si sedevano, erano proprio sotto la mia coscia e mi hanno strappato i pantaloni, prendendomi il pelino della coscia senza prendermi la carne. E siamo caduti piano, come se una mano ci tenesse. Non siamo precipitati. Siamo ritrovati in fondo, allora abbiamo preso e siamo andati via, non abbiamo visto il concerto, perché ci eravamo un po' spaventati, però una mano ci ha tenuto, a me una mano mi ha tenuto e io ho avuto solo questo pantalone strappato, diciamo. Abbiamo nevissuti. Abbiamo trovato mezzo minuto di Fabrizio che parla durante i concerti, insomma, spesso parlava con il pubblico durante i concerti, in questo caso sta parlando dell'accordatura della chitarra e persino in un nulla come questo, evidentemente improvvisato, insomma, c'è l'umorismo di cui parlavamo. Mostriamole con piacere. Grazie. E' talmente accordato che non mi lasciano fare quel discorsino divertente. Aspetta quando si scorda, perché di solito me la portano scordatissima, allora io dico che gli animalisti da una parte non vogliono più che si usi il budello di montone per fare le corde della chitarra, gli ambientalisti dall'altra ci vietano di usare il nylon, allora non ci sono rimasti altro che gli spaghetti, sono un po' duri da accordare. Dunque, la sua voce, la sua voce. Ecco, questa è l'altra cosa pazzesca, il dono, il dono della voce, insomma, vengono sempre accomunati Leonard Cohen e Fabrizio, no? effettivamente è una voce che spesso anche lì insomma se ne parla poco ma è invece il grande dono. Sì, che non è autoritaria poi, perché quando si dice la voce, insomma, un po' così, con i toni bassi, e invece sono voci poi vellutate, dolci, ecco, e si fanno ascoltare, anche i bambini sono affascinati da voci. Sandro, dunque, adesso questa iniziativa della Nava di Teseo raccoglie tutto ciò che è stato scritto intorno a Fabrizio De Andrè e anche di Fabrizio De Andrè, intanto è un modo per darne un'interpretazione autentica e per averne memoria e contezza, ma secondo te uno come Fabrizio cosa penserebbe di una collana a lui dedicata, Sandro? Beh, se ne dovrebbe fare una ragione, almeno dal tempo in cui avrebbe dovuto esprimersi e tutti glielo avrebbero chiesto riguardo al premio Nobel dato a Bob Dylan, una volta che è stato metabolizzato questo uno come Fabrizio penso che fosse cosciente del proprio valore anche se era una persona modesta però sapeva che a quel punto è entrata così prepotentemente la musica la canzone nel mondo alto della letteratura insomma era fatale è fatale che che la gente si interessi a quello che ha scritto perché l'ha fatta apposta poi non è che gli sono scappati ma l'Italia non era preparata e quindi credo che alla fine scusa scusa no ora è preparata allora no allora no ora credo di sì ora credo di sì anche se l'introduzione ad accordi retici all'edizione originale aveva fatto il grande poeta Mario Luzzi e c'è uno scambio bellissimo di lettere fra Fabrizio e Luzzi è una bellissima e qui abbiamo inserito la risposta di Fabrizio che allora ovviamente non poteva perché l'avevano già pubblicato e qui questa volta troviamo la bellissima risposta dolce rispettosa affettuosa nei confronti di Luzzi è molto sincero però io ti ho fatto questa domanda in realtà ecco questa è la la lettera di Fabrizio di Andrè in cui risponde a Luzzi ho fatto questa domanda perché abbiamo trovato Dori un pezzo di tanto tempo fa in cui Fabrizio abbiamo trovato ce l'hai dato tu dalla fondazione in realtà appreso di essere stato inserito nelle antologie delle scuole medie gli chiedono ma lei di Andrè è contento di questa introduzione sui libri scolastici e stiamo parlando di un Fabrizio ragazzino perché stiamo parlando di un ragazzo allora era proprio giovane giovane e questa è la sua meravigliosa risposta in primo momento una discreta iniezione a quello che può essere il suo amor proprio la sua vanità il fatto di sapersi su un'antologia anzi mi è successo quando l'ho saputo di dirlo anche agli amici sono anche sull'antologia sono studiato da diversi ragazzi che frequentano le scuole meglio in Italia però una volta appagato quello che è l'orgoglio ti dico la verità che mi ha dato abbastanza fastidio perché ripensandoci la cosa mi è dispiaciuto da due punti di vista uno proprio di ordine etico morale il fatto di essere studiato e con l'obbligo di essere studiato quindi neanche con la possibilità di scelta da parte dei ragazzi se studiarmi o no almeno quando andavo a scuola io di solito imparavo le poesie a memoria siccome sono inserito mi sembra fra i poeti credo di essere uno da imparare a memoria questo mi dà abbastanza fastidio poi c'è anche l'altro lo svantaggio quello che io ho sentito uno svantaggio di tipo professionale perché secondo me le mie parole vanno sentite se uno ha voglia di sentirle insieme alla musica perché sono nati insieme alla musica c'è una melodia mica male lui in effetti non si riteneva poi non un musicista e neanche un poeta quindi vabbè sono un cantautico cosa che poi nel libro Tabucchi invece mette in discussione Luzi aveva risolto dicendo che era uno chansonnier come era vero e Tabucchi risolve perfettamente Tabucchi e molti altri letterati e poeti tra l'altro nel Colibri vincitore dello strega del nostro Sandro Veronesi bellissimo romanzo c'è anche Fabrizio ci sei anche tu perché il protagonista vi rende grazie Marco vi rende grazie perché gli avete insegnato un'altra parola che ha a che fare con De Andrè e l'avete insegnato anche a me questa volta non è la lepre dei coppi o il coniglio del marsigliese ma è l'emmenagia che cos'è l'emmenagia Sandro ce lo spieghi tu? beh l'emmenagia è una parola molto molto è un'invenzione naturalmente viene dal greco il libro è stato scritto da Dori Francesca Serafini e Giordano Meacci che sono due linguisti molto molto bravi il libro lui e appassionato di sì l'abbiamo presentato da te e loro erano qui presenti infatti Francesca Giordano esatto me lo ricordo l'ho visto ed è molto ed è molto legata a De Andrè come invenzione di parola perché può significare una cosa ma anche il suo contrario e cioè questo sforzo di essere la tenacia di essere dentro una in una situazione la la ragione di quella situazione o anche quello che quella situazione la sopporta essere entrambe le cose che è un po' una cosa una caratteristica una caratteristica che viene riscontrata diciamo nel protagonista di quel romanzo e che quindi insomma gli viene fatta gli viene fatta notare è una è una bella invenzione una bella invenzione credo che De Andrè l'avrebbe molto apprezzata allora Dori abbiamo trovato altre parole di Fabrizio sempre pensate sempre precise così come nei versi delle sue canzoni anche nelle interviste a Vincenzo Mollica che saluto Vincenzo che ha avuto la fortuna di frequentarvi e di intervistare Fabrizio e noi abbiamo avuto la fortuna di frequentare lui e voi di frequentare lui e te anche frequentare te anche diciamolo finalmente la chiede Vincenzo chiede a Fabrizio di che cosa ha paura De Andrè e risentiamo la risposta di cosa ha paura oggi Fabrizio De Andrè sicuramente della morte non tanto la mia che in ogni caso quando arriverà se mi darà il tempo di accorgermene mi farà provare la mia buona dose di paura quanto la morte che ci sta intorno lo scarso attaccamento alla vita che è noto in molti nostri simili che si ammazzano per dei motivi sicuramente molto più futili di quanto non sia il valore della vita io ho paura di quello che non capisco e questo proprio non mi riesce di capirlo e allora a queste parole io vorrei far seguito ringraziando tantissimo Sandro Veronesi e Dorighezia ricordando appunto la pubblicazione dei primi due volumi per la nave di Teseo Volammo Davvero e la riedizione di accordi eretici e quelli che andranno a seguire dicevo vorrei chiudere questo nostro incontro per far seguito alle parole pronunciate da Fabrizio con un assaggio come si dice della guerra di Piero in una versione totalmente inedita mai vista prima che regalo al pubblico di che tempo che fa e a Sandro Veronesi che immagino non l'abbia vista nemmeno lui sono immagini che avete voi in fondazione che avete recuperato ma sono della RAI bisognerrebbe andare un po' a vedere cosa è rimasto insomma questo è un altro discorso e allora intanto vediamo e lo posso scoprire io sì sì va bene ne parliamo un'altra volta perché no vabbè ma la RAI è grande c'è tanto è difficile addentrarsi allora ascoltiamo questa inedita versione è una sintesi in realtà che fa Fabrizio della guerra di Piero prego dormi sepolto in un campo di grano non è la rosa non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve il vento ti sputa in faccia la neve fermati Piero fermati adesso lascia che il vento ti passi un po' addosso dei morti in battaglia ti porti la voce chi diede la vita ebbe in cambio una croce ma tu non lo udisti e il tempo passava con le stagioni a passo di Java ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera e mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore beh io credo che possa bastare per dare un'idea abbastanza imprecisa di quello che era quella di Piero grazie Dori per questo regalo grazie 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 a Sandro Veronesi grazie a Dori Ghezzi grazie alla nave di tesi è una grande collaborazione che dura da anni tra tutti e durerà ci siamo siamo sempre qua cosa siamo tutti quasi è un onore siamo dei linfonodi che in qualche modo collaborano è un onore grazie a Dori Ghezzi